Ciao a tutti ragazzi, siamo qui per darvi un'ultima notizia di pochi minuti fa. Purtroppo oggi non ci sarà Orighi in San Bedore a Milan, in Belga accusato di affaticamento muscolare, motivo per cui non ci sarà, ripeto, stasera. E quindi a questo punto probabilmente ci sarà ancora una volta Olivier Giroud al centro dell'attacco, peccato. Eravamo tutti un po' boiosi, curiosi di vederlo all'opera, però ancora una volta problema fisico per il Belga che a questo punto dovrà essere valutato con un esame strumentale a quant'altro. Vedremo quando ritornerà, però l'importante, soprattutto i giocatori, è il Milan. Quindi forza Milan e speriamo nella lettura. Ciao ragazzi.